Comprare o noleggiare? Mmm... il dilemma Con questa intro volevo sussicarvi Mi ha contattato una società molto interessante nel panorama italiano una startup italiana che si occupa di noleggio di materiale praticamente ed è una piattaforma che mette in comunicazione chi vuole noleggiare con chi ha il materiale quindi chi ha il bene questa piattaforma si chiama Paladin e infatti questo video è realizzato in collaborazione proprio con loro con i ragazzi di Paladin perché mi hanno contattato e hanno detto perché non provi la nostra piattaforma e non la fai conoscere al tuo pubblico qui loro mi sono capitate un pochino a fagiolo perché io quando consiglio di acquistare un'attrezzatura, di acquistare un prodotto o di provare un determinato prodotto naturalmente non consiglio di comprarlo per poi poterlo testare ma quando io faccio un acquisto tendenzialmente tendo prima a noleggiare quel prodotto così da poterlo provare anche per un giorno e poi poter decidere se va bene oppure no se fa oppure no al caso mio o se lo ha qualche amico me lo faccio prestare ma il concetto è sempre lo stesso perché non provare prima un prodotto prima di poterlo acquistare e poi grazie in parte grazie a paladin questo adesso è possibile e loro mi hanno mandato un primo pacco da unboxare infatti lo voglio unboxare con voi in questo video perché c'è una cosa qui dentro che io volevo provare da tantissimo tempo e che non ho mai avuto la possibilità di poter provare andiamo ad aprire il pacco ho incartato molto bene questo gliene devo dare atto gliene devo dare atto allora vediamo un pochino devo trovare i punti giusti dove infilare la forbice per non distruggere il pacco perché poi questo essendo un noleggio naturalmente va restituito e tra le altre cose i costi sono davvero molto interessanti ed in più ragazzi vi lascio qui sotto nei commenti un codice sconto che vale purtroppo per poco ma che vi permette di poter noleggiare quello che volete ad un costo davvero bassissimo scuso bene allora vediamo un pochino se è quello che io penso penso che sia quello che io penso il pacco si apre così oh c'è una spilla una spilla di paladin bellissima non so se si vede si vede un bellissimo adesivo attaccherò sul portatile carte e carte ah all'interno c'è direttamente la bolla per il ritorno e c'è all'interno una bella busta oppola con un nome che è una marca che si chiama Panono la Panono fa una serie di gadget molto molto interessanti tra le altre cose fa questa una camera a 360 con boh non so quante lenti ed è una cosa ragazzi fantastica ma questa sarà frutto di una recensione approfondita naturalmente nel frattempo io ringrazio gli amici di paladin e vi invito a visitare il loro sito web che vi lascio qui nei commenti con il codice sconto che trovate potete noleggiare qualsiasi cosa ad un prezzo davvero davvero molto 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 scontato quindi vi ringrazio innanzitutto per la visione se avete delle domande potete scrivermi qui nei commenti non dimenticate di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video a Grazie per la visione!